34.000 euro mangiati in pranzi e cene al ristorante, altri 111.000 per spese di stampa e materiale di cancelleria, ben 624.000 per incentivi ai dipendenti del comune. Ecco che fine ha fatto una parte del fiume di milioni, 147 per la precisione, di cui 82 già erogati, stanziati da Roma per finanziare il nuovo porto commerciale di Molfetta. Due giorni dopo lo scandalo e due arresti, il direttore del cantiere Giorgio Calderoni e l'ex dirigente comunale Enzo Balducci, dalle 753 pagine dell'ordinanza della procura di Trani, da cui risultano indagate 60 persone, fra cui l'ex sindaco e presunto regista della truffa ai danni dello Stato, il senatore PDL Antonio Azzollini, vengono fuori dettagli imbarazzanti su spese folli, fatte con i soldi pubblici destinati al porto, alcuni sono serviti fino anche a pagare i tendoni da sole del mercato ortofrutticolo, spese abilmente occultate nelle pieghe dei bilanci del comune di Molfetta. Quel porto commerciale in realtà non si sarebbe mai dovuto realizzare, per via della presenza di bombe della Seconda Guerra Mondiale sui fondali, cosa che l'impresa sapeva bene, visto che non poteva procedere coi lavori, e che però avrebbe taciuto in cambio di 7,8 milioni di euro ricevuti tramite il senatore Azzollini.